Giro di chiave, attiviamo la manetta e si parte! Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale! Oggi vi porterò alla scoperta di un borgo molto molto bello, incastonato in una cornice meravigliosa che si affaccia sul mare Adriatico e all'interno del parco regionale del Conero. Quindi non siamo più nella provincia di Pesaro e Urbino, ma nella provincia di Ancona. A dopo! Ciao! 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 Oh Un saluto a tutti da questo splendido posto e ci vediamo al prossimo video. Ciao Ciao